Importante operazione di servizio all'interno delle carceri di Secondigliano e Avellino. A darne notizia Emilio Fattorello, segretario nazionale per la campagna del sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Nel penitenziario di Secondigliano sono stati rinvenuti e sequestrati due telefonini nei reparti dove sono ospitati i detenuti del circuito alta sicurezza. Solo nel carcere di Secondigliano sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria dall'inizio dell'anno 24 apparecchi telefonici, mentre negli istituti della regione campagna circa 200 cellulari. Nel carcere di Avellino, dichiara Fattorello del Zappe, l'altro giorno sono stati invece rinvenuti e sequestrati ben nove cellulari del tipo micro, posti all'interno di due pacchi postali che per il decreto Cura Italia erano stati autorizzati anche oltre peso consentito. La professionalità della polizia penitenziaria, messa in campo sempre, riesce a garantire la legalità, nonostante le condizioni estreme di operatività. Per Donato Caprice, segretario generale del Zappe, va dato atto e lustro al personale di polizia penitenziaria in servizio ad Avellino e Secondigliano, nonché nelle altre carceri campane che, quotidianamente, solo grazie alle esperienze e professionalità, riesce a reprimere e a prevenire reati di ogni genere che si verificano all'interno degli istituti penitenziari. Le carcere sono più sicure assumendo gli agenti di polizia penitenziaria che mancano, finanziando gli interventi per potenziare i livelli di sicurezza delle carceri, come ad esempio i body scanner, che potrebbero comunque aiutare molto in termini di prevenzione e contrasto circa l'introduzione di materiale illecito e non consentito nelle carceri.